Allora, Ferrisci in Cucina questa sera, che devo dire, Roma mi sta regalando in tre giorni grandissime sensazioni, una bellissima esperienza, devo dirti che sapevo della vostra presenza qui, sapevo che stasera avreste parlato a tema della Sicilia, della mia Marsala perché io sono marsalese e soprattutto della mia mozia perché oltre a essere marsalese mi sento molto proprio di quella zona, proprio della zona dello stagnone di Marsala che tu ben conosci, ma con chi sto parlando? Sto parlando con il presidente della Flumen, un'associazione, Gabriele Rossoni e ci hai regalato belle sensazioni, volevo innanzitutto portarti il saluto di Flesci in Cucina di tutti gli amici, anche se Flesci in Cucina viene dalla Sicilia e volevo innanzitutto ringraziarti e salutarti. Grazie a te a Flesci in Cucina, quindi tu sei di Marsala, quindi sei un punico. Io sono un punico e diciamola così. Non sei greco. Non sono greco. Sei fenicio. Sono fenicio, è negativo? No, no, è una cosa originale e anche importante. Andiamo invece veramente sulle cose importanti, stasera si è parlato tanto innanzitutto di archeologia, della vostra esperienza dell'Università di Roma che negli anni hai raccontato tanto, sia di persone che purtroppo ormai non esistono più ma che hanno dedicato parte della loro vita professionale e voi, tu in prima persona con un gruppo di collaboratori, negli ultimi anni avete preso l'eredità e avete curato appunto il sito archeologico di Mozia. È inutile, non possiamo qua raccontare tutto quello che è stato detto. Tante belle sensazioni, tante belle notizie, io stesso non sapevo di tutte le cose che hai raccontato. Ecco, volevo che ci raccontassi un attimo di questa esperienza che io ho avuto il piacere di seguire qui stasera a Roma. Allora, per me prima di tutto Mozia è un'esperienza umana, per cui ho iniziato a lavorare a Mozia tanti anni fa, fino agli anni Ottanta, come collaboratore della sovrintendenza di Trapani. L'esperienza umana è stata la prima cosa, amicizie, conoscenze, rapporti veramente straordinari in un punto della Sicilia bellissimo che è appunto questo qua di Mozia, di Trapani, di Marsala, quindi prima di tutto. E poi la parte degli scavi scientifici è stata meravigliosa, perché Mozia è uno dei luoghi archeologici più importanti del Mediterraneo, lo è tuttora, che ha ancora grosse potenzialità sia scientifiche che anche di sviluppo turistico culturale fondamentale. Questa è la base di tutto. Poi io mi occupo di divulgazione culturale e lì è veramente un cantiere ancora aperto, sia di studi, perché la città fenicia è ancora tutta sotto, nonostante gli scavi che abbiamo fatto in questi anni, in continuazione, ormai da un decennio. E poi è talmente bello il posto, è talmente unico, che ha delle potenzialità di turismo di altissimo livello veramente importanti. Tenendo presente che grazie a Dio ancora l'aeroporto funziona, che è fondamentale per portare le persone a conoscenza di ciò che pian piano si andrà scoprendo. Quando vuoi creare un movimento turistico di livello devi pensare a portare le persone lì. Quindi l'aeroporto spero che resista e perché è fondamentale. Me lo auguro anch'io. E Mozia in particolare e poi tutto il contesto, Marzala per esempio, è bellissimo e di grandissimo livello dal punto di vista artistico ed enogastronomico. E adesso l'unicità dell'Italia è nelle sue valenze che sono inimitabili, che sono l'arte e l'enogastronomia. Non ce lo può proprio nessuno copiare e in quel contesto geografico di quel pezzo di Sicilia queste cose possono essere fatte ad altissimo livello. Questo connubio, tu vuoi dire, è veramente naturale il connubio fra queste due cose, solo che ancora non siamo stati così bravi e capaci di sfruttare bene. Di sfruttarlo al massimo. C'è ancora molto margine e questo è un bene, vuol dire che la situazione non è disperata. Allora, allora senti, prima di concludere, di salutarti, io volevo veramente ringraziare te, i tuoi collaboratori, i tuoi colleghi. Ho visto un bellissimo filmato, mi sarebbe piaciuto veramente che l'avessero visto tutti gli amici Flash in Cucina. Veramente per l'impegno. Pensavo veramente che quest'isola, questo nostro patrimonio, questo nostro tesoro fosse rimasta abbandonata. Invece vedo che veramente voi avete preso di mano questa situazione e sono veramente speranzoso in quel contesto di cui stai parlando. Prima di chiudere e di salutarci, il futuro prossimo, proprio in dieci secondi. Il futuro prossimo, nuovi scavi, quindi migliorare la conoscenza dell'isola e fare rete tra l'isola e il contesto geografico circondario e il resto d'Italia e del mondo per portare le persone a vedere l'isola. E penso che migliore saluto a Flash in Cucina e qui davanti e a tutti i nostri amici, veramente non potevi darci. Grazie e veramente, nuovamente grazie per questa bellissima esperienza. Grazie a voi. Grazie.